... ma quella devi lasciare non ne vanno anche la pena anche perché è troppo grosso bravo che dici il passaggio per evitare i sassi? è pericoloso e basta così quando ritincorni dentro perché ti scivola giù la ruota buttala su sulla riva e basta mettila di là, seve buttala di là e basta buttala di là, la togli e basta non lasciarla lì in mezzo che è pericolosa eh, o su lì in alto se sei già lì portagliela su al balcone sì, certo, basta che la fisi con i tasselli quella potrebbe servire via, via via alla larga non ce l'ho più eh, ce l'hai stato tu la mia mattinetta sta molto a sega basta, basta via 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 le via 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 lì c'è dentro un po' di sasso se non la prendi larga la prendi bene ma qua è diventato il grido secco filo però poi vieni cosa fare anche io la vedo più in mezzo vai a prendere la moto e dopo tanto dovete farla certe volte a me mi pare sempre però è più scivoloso e pronti via che questo questo non è scivoloso tanto